Allora andiamo a esplorare questa stanza, vediamo se c'è qualcosa che non abbiamo magari raccolto come prima. Tocco stare attenti. Oh, eccolo qua, un altro. Vediamo se riusciamo ad aprire questa porta. No, è Locked. Oh, c'è un altro analizzatore, vabbè mi ci interessa. Ma che è sta gente? Dunque ragazzi, eccoci qui arrivati alla station. Qui è stato difficoltoso perché poi quando è notte non si vede assolutamente nulla, quindi bisogna salire sopra questo albero, trovare la strada giusta sotto e pieno di insetti. Quindi non è semplice, portatevi l'arco e armi potenti. Allora andiamo a vedere questo qua. Mi pare che non ho scoperto nulla perché ho ucciso dei miei animali ma l'avevo già scoperto. Ora vi faccio vedere dove si trova questo posto. Dunque mi trovo qua, in fondo, nel profondo sud, diciamo così. Qua però in questa zona, adesso dovrò aspettare che venga giorno perché non si vede veramente nulla, ci dovrebbe essere anche il lab, più o meno qui intorno. Adesso aspettiamo e se lo trovo ve lo faccio vedere dove si trova. Allora, dunque l'apricote, insomma l'albicocca, il succo di albicocca, ecco non mi veniva il nome, è qua. Solo che praticamente ancora sto girando ma non viene mai più giorno, quindi diventa difficile, non vedo niente. Allora devo provare ad andare qui sopra all'apricote, adesso vediamo se trovo la strada. Dunque ragazzi, su questo albero è veramente grandissimo, sono stata veramente un sacco di tempo per riuscire a trovare la strada giusta ed è molto difficile, però la situazione è anche pericolosa per quanto riguarda il fatto che ci siano anche i ragni sopra questi rami, come vedete laggiù. Praticamente fatevi una capanna sotto perché sarà magari facile anche morire. Adesso bisognerà vedere se qua si riesce poi a trovare il punto dove andare a entrare. Dunque allora qui è chiuso, quindi niente, torniamo indietro. Dunque ragazzi, è tre ore che sto girando qui intorno e praticamente è tutto chiuso, non si riesce ad entrare. Poi ho visto che nei corridoi ci sono anche i ragni, non so se si riesce a notare, lì ce ne sono addirittura due. Quindi non è che sia molto, dovessi trovare l'ingresso, non sarà facile arrivare al punto di destinazione. Però se ne andate a vedere su un video è praticamente là. Dunque una volta individuato in alto vi dovete buttare sotto perché l'ingresso è sotto. Allora dobbiamo trovare questa specie di fontana, che non so se si vede. Qua sulla sua sinistra ci dovrebbe essere l'ingresso, mi pare di averlo visto prima. Non ne sono sicura. No, non era qua. Ah, eccolo laggiù, forse. Non lo so, dovrebbe essere qui dove c'è la fontana. Oh, eccolo qua ragazzi, cioè è veramente complesso trovare sto ingresso. Allora, solo che il problema adesso sarà ad entrarci. Dunque, guardate qui dove sono, dove c'è questa fontana e là si vede la casa e qua c'è l'ingresso. Mi trovo esattamente qua, cioè vedete dove eravamo prima? Eravamo qui dalla capanna, diciamo, della station. Siamo veramente da una parte lontanissima. Allora, e poi il laboratorio qua, quindi ci sarà un lungo corridoio da andare a percorrere. Però il discorso è che ho visto che ci sarà anche la possibilità di trovarsi dei ragni.